buonasera amici e benvenuti nel mio canale allevamento amatoriale di raffaele scoglio guardate questa tanibar guardate che bellezza amici si lascia immortalare guardate eccolo e via guardiamo un attimo se riusciamo a capire quattro uova amici vedete bellissimo andiamo qua nido di ruffi calda con quattro uova nido di cordon blu con due uova non credo siano secondi ancora andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti nidi patti nidi con ruffi calda con con piccoli guardate imbeccati ancora avanti questo è un cenno di nido di bengalini venti arancia ma non hanno tenuto il vicino a fianco subito nidi con pulli guardate amici pulli di domino poi ci sono non so se mi riesco a far vedere due coda lunga mutati ino crema ino in purezza guardate come crescono e qualche che bei guzzetti ragazzi posiamo il nido beh l'allevamento materiale tutto sull'aggiornamento dove vi lascio con questi bei pulletti ragazzi è inutile dirvi se il video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video ciao agli occhi ciao